ce l'abbiamo io ne ho 30 allora cosa ne pensi di blu subito si ma pensavo fosse una gag che avevo fatto sui napoletani con risposta ma dove l'ha fatto su in una stream o su un video di youtube è un video su youtube magari si vede meglio è su youtube video su youtube di quello la questo com'è questo madonna non l'ho mai visto come si chiama super allan almeno si vede meglio si sente meglio si fa tutto un po' meglio cosa ne pensi di oddio confuse gamer allora cosa ne pensi di blu subito frate ma perché le persone posso chiedere una cosa perché le persone si lamentano di non riuscire a fare più di 50.000 visual su youtube ma non sanno fare i video c'è perché le persone provano anche a fare il nostro lavoro c'è questo zì questo zì in un video cosa ne pensi di letteralmente il cosa ne pensi che tutti volevano sentì dove lo metti dopo 50 secondi di video cioè sei stupido super allan giovanni visone ma mettilo dopo 8 minuti che dopo 8 minuti puoi monetizzare video zio porco ma che lo metti subito si non si deve presentare a napoli se si presenta a napoli va a finire male ma dipende fuse perché se me se me travesto da da monnezza non me riconoscete me faccio come i camaleonti no seriamente parlando perché seriamente però sta parlando seriamente sta parlando seriamente no ma che sei andato ma non so dove è andato lui in portogallo no ha pensato che fossi il maestro che sono andato in portogallo se si ripresenta in italia specialmente a napoli non si faccia vivo perché ma non si guarda non ti preoccupare quella città colerosa non ci vengo tranquillo no è napoli bellissima città meravigliosa o letteralmente quattro ristoranti dove andare che mi seguono anche in stream gli mando un saluto soprattutto alla figlia del marinaro grandi grandi fratelli mi hanno detto che mi offrono una cena me la sono legata al dito e sta ancora qui che il problema che fa parte perché ha una catena d'oro che sembra uscita da un video di pop di pop smoke ma che cos'è come cazzo si sono vestiti ti do questa terribile notizia una notizia che una verità terribile però voglio dire è giusto lui dice parliamo seriamente parliamo seriamente perché è giusto fare fare le cose fatte bene alle volte sei lo youtuber diciamo dai sei lo youtuber simbolo di napoli comunque più tifosi cioè neanche tifosi ho più napoletani io nella mia fanbase che te cioè secondo me si arriva a un momento a un momento preciso della propria carriera che ci si deve fare due domande bisogna fare un uno più uno precisa cioè perché è preoccupante cioè non è io io per carità io apprezzo tutti quanti quelli che mi seguono e basta però nel senso dovrebbe essere un tuo punto di forza questo non è neanche quello letteralmente quando ho detto quando c'è una clip virale mia su tiktok non so se è trovabile ma dove dove parlo dell'esplosione del vesuvio e dico che tanti napoletani scambierebbero la l'accettazione per l'esplosione del vesuvio se tra i morti ci sono ci sono un paio di ragazzetti di youtube e letteralmente i commenti sono in base di sì sì ha ragione sì assolutamente sì farei questo patto vincolante con il diavolo non lo so aspetta dice qualcos'altro non sono così interessante comunque da conoscere supervisone cioè montone bianco non sono così allora vai i seguiti di andrea i seguiti di andrea e per favore anche uno smollicato ma perché se la prendono sempre con noi napoletani letteralmente la risposta mafia 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 minacce e coltelli meno meno gomorra più sony vegas per editare i video meno gomorra e più microfoni rode da attaccare qui così si riesce a sentire la voce ci torno a napoli ci torno perché è una gran città se magna bene ci si sta bene basta voglio dire ho trovato una volta avevo trovato in una piazza fantastica una casetta a napoli champions league 2024 mundialito football l'abbiamo alla l'abbiamo